gentili telespettatori buona giornata il caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia il caso di questa influencer che ora è un diventato un serio problema per giorgia meloni perché ha implicazioni di tutti i tipi insomma poi anche per la meloni è un'altra figuraccia dopo dopo tutti i casi che abbiamo visto e ultimamente salvini e tagliani solo gli uscole le litigate estive qualcuno dice ci mancava anche questa c'è il caso della scorta racconta oggi repubblica che boccia si sarebbe spostata spesso con la scorta del ministro che nel frattempo è stata sostituita i due agenti hanno cambiato destinazione e ha ricevuto informazioni sensibili che sulla carta non aveva diritto ad avere ovvero proprio quel che riguardavano l'organizzazione del g7 della cultura a pompei essendoci di mezzo una questione di sicurezza per la repubblica visto che si parlava di capi di stato capi di governo dei più importanti paesi sotto l'aspetto economico e g7 sono i grandi sette dell'economia e quindi ci sono email che non potevano essere mandati email non sicure diciamo così chiamiamole così email non sicure che non potevano essere inviate a persone come questa boccia e invece dagospia ha mostrato proprio delle email riservate mandate in conoscenza anche a questa maria rosaria boccia quindi c'è una questione la questione della scorta la questione della sicurezza della repubblica notizie che non potevano circolare per questo adesso meloni potrebbe chiedere un chiarimento però non a nome di giorgia meloni non a nome della premier ma a nome del governo perché si è arrivati nel terreno della sicurezza della repubblica e la premier viene descritta come molto infastidita nei confronti di gennaro san giuliano che ha voluto lei stessa come responsabile della cultura e cara cara giorgia insomma diciamo che sei circondata un po da personaggi e persone un po diciamo un po così ecco forse nel prossimo governo se vincerai le elezioni nel 2027 forse ci penserai su centomila volte prima di fare le nomine di questi ministri perché insomma abbiamo abbiamo avuto sgarbi con le storie dei quadri la santa anche con la cassa integrazione e poi abbiamo avuto abbiamo ancora l'ollo brigida abbiamo avuto poi il caso del mastro le informazioni e quell'altro di capodanno che ecco diciamo che adesso adesso abbiamo san giuliano probabilmente mi dimentico qualcuno ma diciamo che la meloni è attorniata da persone discretamente discutibili insomma sotto vari aspetti perché forse era meglio prendere persone meno yes man meno yes woman magari prendere persone un po più anonime meno fedelissime però di un altro tipo ecco persone diciamo di un altro di un altro di un altro diciamo così di un altro tipo non è che mi mancano i termini quando io parlo è parliamoci chiaro è che devo sempre intanto questi video voi vedete che sono non sono tagliati sono registrati e caricati non ho tempo pertanto io mentre parlo devo pensare mentre sto parlando a quali termini utilizzare perché ci possono poi essere problemi di tutti i tipi dall'algoritmo a tante altre cose pertanto a volte io mi fermo giro intorno alle cose proprio perché sto cercando di evitare di pronunciare alcuni termini comunque andiamo avanti adesso meloni potrebbe chiedere chiarimenti a nome del governo e il corriere della sera fa sapere che giovedì 29 agosto si è tenuta a napoli in prefettura proprio un'organizzazione una riunione sull'organizzazione del g7 quindi questa signora che non risulta consulente del ministro non risulta consulente del ministero ha poi dichiarato sui social di essere una consulente grandi eventi del del ministero della cultura il ministero smentisce non è mai stata pagata non è consulente però da testimonianza e foto e sempre intorno al ministro e poi gli mandano anche delle email riservate in conoscenza come si fa a mandare delle email riservate che devono attenersi a dei protocolli per la sicurezza della repubblica come possono essere delle email riservate sotto l'aspetto della sicurezza essere inviate a conoscenza di una signora che non è collaboratrice del governo in nessun modo capite che è abbastanza grave e poi c'è il g7 poi ci sono tutto quello che vi ho raccontato in questi giorni l'opposizione dice in maniera abbastanza ironica beh dai se il ministro non può venire a giustificarsi in parlamento perché non sa come giustificarsi lasci l'incarico avete capito un po' cosa dice l'opposizione se non può venire a giustificarsi a questo punto lasci l'incarico cioè se non riesce a dare nessuna giustificazione allora meglio che lasci e lasciamo perdere chiudiamoli vedremo quello che succederà in questo curioso caso di agosto questa non l'avevo ancora sentita questa è proprio un unicum una nuova rama rama un nuovo ramo di andiamo avanti arrivederci grazie